A dove sta il tuo padre? Al prato dove hai detto che lo conoscevi, mio padre. Per voto entro il dito rigorosamente l'ingresso agli italiani. Allo, allo Itaca! Puoi entrerli dentro e questo lo dai ai poliziotti. Ti ci portano loro da tuo padre. Oh, ma se devo sapere che vuoi? Viaggio a pensare a vita mia. Perché non mi aiuti a portare la valigia, eh? Che è sta stare di questo ragazzino che ti porti dietro? È una cosa complicata. Non sa mai fatica, che è meglio. Ma che è sta tristizia? Ma che ti fressa? Ma che ti è successo? Non mi ammerdo, poi ne lo riporto dal padre. No. No. Grazie a tutti.